Le impressioni sono molto positive, c'è veramente voglia di design, voglia di mobili. Intanto siamo arrivati al 2022, dopo tre anni, vediamo che è una bella ripresa. Siamo riusciti a venire qua, a portare le nostre nuove idee, le nostre emozioni. Il nuovo progetto outdoor, che è sempre un settore che sta crescendo molto negli ultimi anni. La serie Puntala e Argentario, dell'architetto Mauro Lipparini. Poi abbiamo la collezione Santos, di Gesino Carollo. Oltre a questi, divano Backpack di Giuseppe Viganò e il letto Big Night, sempre di Mauro Lipparini. Nonostante tutto, il settore nostro non ha mai conosciuto un periodo così splendido. L'archetipo nel mercato di alta gamma sicuramente può dire la sua.